Monopattini, allora, ci sono due notizie che riguardano i monopattini di cui ci occupiamo. Uno è che purtroppo gli incidenti aumentano. Proseguono. Proseguono. In Lombardia, nell'ultimo anno, questi dati credo che li abbia forniti anche decorato, ci sono stati, correggimi se sbaglio, 1044 incidenti con i monopattini elettrici e di cui 539 solo a Milano. Sono aggiornati? No, no, sono di più. Non di più, purtroppo. A Milano sono, diciamo, a ieri, perché non ho quelli di oggi, a ieri siamo sugli 870. A Milano? Dal primo giugno 2020. Ah, ecco, no, questi sono solo nel 2021, io ho i miei. No, 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 io quelli che ho, che sono di Areu, perché ovviamente Areu vuol dire che arriva l'ambulanza. Certo. E quindi, arrivando all'ambulanza, vuol dire che vengono portati poi in un ospedale e sono sugli 870 circa. Ecco, però tu parti dal primo giugno 2020. Primo giugno 2020. Allora non sono confrontabili. E quella è la data a Milano in cui sono apparsi le prime migliaia di monopatti. Certo, perché è iniziato anche dal servizio di sharing del monopattino. Esatto, è iniziato in grosso modo intorno a quella... La seconda notizia è che, lo sapete, che c'è la nuova norma della circolazione stradale, che per guidare un monopattino elettrico lo può fare solo chi ha compiuto 14 anni, e per tutti i minorenni c'è l'obbligo del casco. La terza notizia non riguarda Milano. No. Ma riguarda Firenze. Perché Milano l'aveva annunciato, ma poi non l'ha fatto. Alla fine l'ha fatto Nardella, che sostanzialmente... Che è un sindaco del PD. Sì, appunto, ricalca politicamente quello che è la maggioranza di Milano. Che ha deciso che... Ha deciso che anche i maggiorenni devono avere il casco, e c'è un'ordinanza, ci sono le multe, c'è tutto. No, anche di più. Anche di più? Cosa ha deciso? Nardella ha deciso il casco, anche per i maggiorenni. Ciò che la legge nazionale non obbliga ancora. E sì, questo lo stiamo dicendo. Ma ha anche la targa. E anche la targa a Firenze. Cosa che c'è solo in Germania, perché la Germania ha i monopattini con targa. Ma può decidere un sindaco di... L'ordinanza. Ha fatto un'ordinanza in realtà. Il sindaco all'interno della città di Firenze può fare... Ecco, sia sui servizi di sharing, che se tu sai che ti tieni il tuo monopattino privato, però se giri a Firenze devi stare a quelle regole. Devi stare a quelle regole. Io però volevo aggiungere... E lo sharing devi... Quindi gli sharing di Firenze avranno la targa. Perché sono un servizio convenzionato col comune, quindi per stare in quella dimensione li devono fare... Però volevo aggiungere due dati che mi dà l'assessore Granelli sul tema. È collegato? È collegato? Non lo so. No, sicuramente, ma... No, me li ha dati perché faccio i compiti e gli ho detto che venivo qui. È un fan, sì. E gli ho chiesto se hanno la qualità. È un fan di diabo. È un fan di diabo. Beh, l'abbiamo appena sentito Granelli che parlava dei controlli. Esatto, esattamente. No, volevo dire che dal 29 novembre c'è attivo il servizio rimozione della polizia locale per i monopattini posteggiati in maniera pericolosa, che è una roba di cui ci lamentiamo ormai da anni. E questa è una novità. I primi dati ci dicono 20 rimozioni al giorno in media, 140 euro di multa, fino a 140 euro di multa, oltre alla rimozione del monopattino, perché uno può risalire a chi è stato l'ultimo utilizzatore del servizio in sharing. Cioè io ho affitto un monopattino, lo butto per strada dopo averlo affittato, sanno che sono stata io. Sanno che sono stato io e rischio fino a 140 euro di multa. È una cosa che lui pressava perché ci fosse, perché effettivamente via Torino, ci ricordiamo, siamo andati, è una delle vie più allucinanti. Più deliranti. Cioè mettono il monopattino ovunque. In cinque giorni, dal 22 novembre, hanno attivato anche delle sanzioni mirate a tutti i comportamenti che ovviamente devono richiedere il fatto che ci sia un vigile che nota la persona sul monopattino. 29 sanzioni in cinque giorni per persone fermate. Magari è poco, non lo so. No, no. Però inizia una sensibilizzazione che noi, peraltro io su questo sposo. Sei d'accordo con te Corati. Ma sì, nel senso che noi abbiamo un grosso problema, per esempio in centro abbiamo un grosso problema che c'è tutta l'area, diciamo, tra la cerchia dei navigli e la cerchia dei bastioni che ha il free floating come il resto della città. Cioè che significa che io posso lasciare il monopattino dove voglio perché invece nella parte centrale ci sono i parcheggi e comunque devi lasciarlo nel parcheggio, che però in alcune aree commerciali, di vie del commercio, è un delirio. Allora, sentiamo decorato. Questi due dati di Granelli che ci riporta Abdu dicono che non è vero che proprio non facciamo niente. No, abbiamo iniziato. Abbiamo iniziato. Ma intanto mi fa piacere che Granelli dopo un anno e mezzo ha capito che cosa sta succedendo. Beh, adesso fa la sicurezza. Però ha cambiato la sessorata, quindi è un problema. Non dipendeva da lui prima. No, per carità, non dipendeva da lui, ma in un anno e mezzo. Un po' sì, non è che non dipendessero proprio. Mattia, lui non era sulla Luna, non era su Marte, era in Giunta. In effetti sì. Poteva anche dire qualcosa in più. Va bene, lasciamo per. Però voglio dire, a me fa piacere che 25, 29, non so se sono pochi o tanti come hai detto tu, però il tema è che di vigili in giro ne vediamo pochi. Io quando ero consigliere comunale nello scorso mandato ho chiesto all'assessore di allora, alla Scavuzzo, quanti vigili ci sono in giro per le strade di Milano? Il dato è che su 2.800 vigili, questi sono i dati che mi ha dato la Scavuzzo, ad agosto scorso, quindi non so… Sei mesi fa? Sì, ad agosto. Ad agosto io ho ricevuto, di cui 1.300 sono esterni. Tutti gli altri stanno? No, aspetta, aspetta, c'è un dato simpatico. 1.200 sono negli uffici e 800 sono in smart working, erano ad agosto. Cioè stanno a casa loro? Che fa un vigile in smart working? Esatto. No, però scusate, a casa mia, 1.800 più 1.300… No, 1.200. Più 1.800 fa 3.000? No, 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 1.200, 1.300 e 1.300 sono 2.840, 2.000… E poi il resto… Allora sono più di 2.800, io sapevo 2.800 vigili, sono 3.600 allora… No, sono 2.800, e allora mi manca qualche centinaio nei primi due, però il numero di 800 in smart working è certo. E ti ha detto cosa fanno quelli in smart working? No, non mi ha mai risposto. Però adesso lo smart working teoricamente è finito per i dipendenti. Teoricamente è finito. È finito. Il tema è un altro, perché Decorato lo conosce bene, cioè il tema è che nel momento in cui c'è un diritto, adesso non voglio fare quello poco di sinistra, nel momento in cui c'è un diritto sindacale che non ho inventato io e che c'è sempre stato, che negli anni è stato tutelato anche da molti, diciamo, di quelli assunti nei tempi di Decorato in cui era vicisindaco… Se c'è un diritto è giusto che venga… No, il diritto, ma vorrei descriverlo il diritto, il diritto dice che dopo un po' di anni, di… un certo numero di anni di servizio, A puoi non uscire di sera. Non esci più di sera. E poi non esci neanche di giorno. No, c'è di peggio, Mattia. Cioè, su tanti anni di servizio, di sera non esci più. C'è di peggio. Un po' di anni di servizio di servizio non esce più nessuno. Esatto, e se non fai il turnover e non li assumi, è un problema. Buogra mi la***.